Il minorenne Pelosi ha colpito per difendersi, per difendere il suo onore. Tanto mica l'ha ammazzato lui il Pasolini, lo sanno tutti. Quanti erano? Una macchina l'ha seguito nello scapolo. Simpatici eh? Non è stata nemmeno fatta una perizia sull'auto di Pierpaolo. Intanto le tracce scomparono, i testimoni di lei vanno, che le parole di Pelosi resteranno l'unica verità. È stato lui che mi ha provocato, è stata la disgrazia, non lo volevo ammazzare. Che cosa chiede la parte civile in un processo? Di calcolare il danno. Ma quanto valeva la vita di Pierpaolo? Questo processo farà capire fino in fondo chi era davvero Pierpaolo Pasolini. Face all'anima sua. Face all'anima sua.